Test di registrazione video con Alcatel OneTouch Pop C3 Il video è registrato alla risoluzione massima che è un po' strano quanto meno insolita da vedere sui dispositivi ovvero 1024x768 la cam è una 5 megapixel senza autofocus quindi non avremo l'adattamento del fuoco quando ci spostiamo su un soggetto vicino andiamo a vedere come si comporta con un test di zoom torniamo indietro contro luce vediamo come si comporta a luci più naturali piccolo test di fluidità e ora ci fermiamo